Ciao a tutti ragazzi e bentorni sul canale, come va? Spero che state bene, che stai trascorrendo una splendida giornata indosso questa maglia, non perché siete tifosi a Roma, bensì perché vi voglio parlare di un caso che insomma da un po' di tempo sta affliggendo la società giallorossa prima però di una noccia a questioni, mi raccomando, come sempre lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, avete campanile per i miei sempre aggiornati date uno sguardo alle mie stai gameplay e anche il mio secondo canale di E-Musiche dove parlo tanto di musica, il link qui sotto in descrizione ripeto, indosso questa maglia perché appunto il video è dedicato alla Roma e devo dire che a me piacciono molto questi capi un po' particolari che però si possono mettere anche tutti i giorni, non sono fan di maglie, di calciatori, bensì questo tipo di maglie ottimi mi piacciono veramente tanto e conto di prenderne anche di altre squadre perché è il mio gusto personale però questo è il primo video con la maglia tematica, parliamo di Zagnolo giocatore che negli ultimi anni è stato molto afflitto agli infortuni che già tempo fa fu accostato da Juventus, era interessato anche il Tottenham ma sembra che ultimamente si sia creata una fase di stallo nella trattiva per rinnovo il giocatore che è fermo sulla richiesta di 3.5 milioni di euro o meglio il club è disposto a offrire tale cifra mentre il giocatore vorrebbe più o meno sui 4 milioni una situazione veramente un po' particolare io penso che qualcosa si sia rotto tra i tifosi e la società e il classe 99 perché comunque in primis dopo l'infortunio ancora non ha avuto quella continuità che gli abbia permesso di raggiungere uno stato di forma insomma come era una volta seconda cosa perché magari la società stessa è un po' destabilizzata su questo rimangono, rimango, rinnovo, non rinnovo anche le pari di Tiago Pinto sono state illuminanti perché il direttore della Roma appunto ha detto che o meglio ha affermato che non può assicurare una permanenza di Zagnolo per la prossima stagione e questo è un sintomo che qualcosa sotto bolle probabilmente anche il calciatore stesso ha perso un po' di stimoli quanto me la Roma secondo me vuole fare un po' il passaggio ulteriore in qualche altra squadra che gli permetta di fare quello step appunto successivo nella sua carriera diciamo che la Roma in questi anni è stata anche come squadra affitta veramente da tanti tante crisi o meglio piccole crisi alternate a momenti discreti vediamo anche adesso con Mourinho, squadra incostante poi il periodo di Monci, direttore sportivo vituperato da tutta la tifosia romanista insomma è una bella piazza Roma però è difficile l'altra volta sto parlando con un tifoso e mi ha ammesso che giustamente come anche molti lo sapranno è una piazza difficile e esigente vuole il 120% dei calciatori ecco che quando è che puoi dare il 100%, il 120% quando tu sei pieno di motivazioni quando questa maglia, o meglio non intesa come maglia ma quando sposi questi colori devi sposarli in toto e devi dedicarti totalmente a quella causa se poi hai altre distrazioni che magari le motivazioni vengono un po' di meno giocoforze che li subentra la problematica perché magari diventi incostante in più la sfortuna di Zagnole sono stati al punto di infortuni il rallentamento del rinnovo da parte della Roma è anche stato secondo me dettato da questo io ero d'accordo a darti 3.5 milioni di euro ma adesso, easy, perché prima devi trovare la forma devi dimostrare sul campo che comunque sia ancora determinante come lo eri prima comunque è giovane fa 23 anni quest'anno può ancora crescere molto in più secondo me si sente anche un po' sballottonato a livello tattico perché comunque primo numero 10 poi estendo largo a destra adesso sta agendo la seconda punta in questo 3.5.2 come anche il giocatore dice ragazzi io mi devo specializzare in una posizione il problema è che ha riscontrato anche Bernardeschi ha riscontrato anche Kulusevski alla Juve con Sarri con Pirlo adesso con Allegri insomma questa è un po' una problematica secondo me potrebbe essere un grandissimo caso per l'estate 2022 perché comunque si potrebbe scadere una bella asta dicevo proprio prima che gli stessi club che si erano interessati al giocatore un anno e mezzo due anni fa sono ancora gli stessi che sono interessati ora quindi la Juventus che comunque sta avviando questo processo anche di italianizzazione di ringiovanimento della Rosa e un Tottenham comunque comparatici che già a tempi della Juventus lo adorava il giocatore in più si fanno i nomi anche di Kenne o di McKennie alla Roma per quanto riguarda Zagnolo onestamente fossi nella Roma spererei che arrivasse Ken scusate McKennie forse nella Juventus spererei di dar via Ken perché comunque dare via un giocatore importante come McKennie per poi prendersi uno Zagnolo indeblieresti il centrocampo e poi dovresti ulteriormente investire se tu hai preso Zaccaria per rinforzarlo facendo leva anche su McKennie su Arthur su Locatelli mi va a vendere un nome importante però un nome importante come quando a scuola scambiavi figurina unica con figurina doppione del compagno e tu fai il cambio semplicemente lui invece ci guadagna cioè questo è il discorso quindi non so sono molto curioso di vedere come si quindi svilupperà questa situazione perché secondo me potrebbe essere un caso spinoso non penso che la dirigenza romanista abbia l'intenzione di andare a ferri corti però nel calcio è nobile di nous quindi se il calciatore dovesse forzare in modo un po' troppo veemente o idem farebbe la gente ecco che magari i rapporti si possono anche rompere però ripeto non penso che nel Zagnolo o nella Roma vogliano andare alla guerra quindi la soluzione magari si troverà anche perché il ragazzo ha il contratto di scadenza del 2024 quindi nell'estate 2022 non andrebbe in scadenza però il potere contrattuale da Roma sta un po' scemando quindi insomma dovrebbe scendere un po' a patti ovviamente i tifosi da Roma i tifosi da Juventus o amanti del calcio fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate se prendereste uno Zagnolo se cedereste uno Zagnolo se prendereste Zagnolo cedendo meccanio ken insomma fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto ovviamente ah vi volevo anche ricordare domani alle ore 10 uscirà un video focus su una squadra importante in nord Europa sempre in azione a quel progettino dei campionati esteri quindi attivate questa campanellina perché domani riceverete la notifica di questo video focus ovviamente come sempre vi invito a lasciare un like iscrivervi al canale come sempre attivate la campanellina date una squadra ai miei stadi gameplay al mio secondo canale il link qui sotto in descrizione vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi